Telespettatori di Video 33 ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione telegiornale che sarà ricco di politica per queste elezioni europee. Vince ma non sfonda il PDL, resiste il PD, balzi in avanti di Lega Nord e Italia dei Valori. In provincia eletto Dorfman con l'ESVP al 52,1%. Minimo storico per le elezioni europee 2009 che hanno fatto registrare un'affluenza alle urne di appena il 43% dei votanti. In Europa vince Sarkozy e perde Zapatero. Il primo partito europeo è il PPE mentre i socialisti escono seccamente battuti dalle consultazioni. Passi in avanti degli euroscettici e degli eurofobi che si affermano in particolar modo in Gran Bretagna, Olanda e Austria. In Italia il PDL vince ma non sfonda raggiungendo il 35% abbondante dei voti e conquistando regioni solitamente ostiche come Marche e Umbria. Il PD resiste con il 26% ma il vero boom è della Lega Nord che vola a quota 10,5% e di Italia dei Valori di Pietro che sfiora l'8%. In linea con le attese l'UDC con il 6,5% mentre sono confermate le esclusioni di rifondazione comunisti che con il 3,3% è stata quella che è andata più vicina alla soglia del 4%, Sinistra Libertà, Lista Pannello Bonino e MPA la destra. Dati definitivi per quanto riguarda la provincia di Bolzano con tutte le 488 sezioni scrutinate e un'affluenza pari al 62,9% molto al di sotto, esattamente il 9,1% in meno del 72% fatto registrare alle precedenti europee del 2004. Quanto ai partiti, primo posto per l'ESVOP con 117.685 voti pari al 52,1% e Herbert Dorfman eletto a Bruxelles. Al secondo posto il Popolo della Libertà con 28.877 voti pari al 12,8%. Al terzo posto Sinistra Libertà con 24.641 voti pari al 10,9%. Quarto il PD con il 7,2%. A seguire Italia dei Valori di Pietro con il 6,7%. Lega Nord con il 4,8%. Pannella Bonino con l'1,7%. Udc 1,6%. Rifondazione 0,7%. Fiamma Tricolore 0,6%. L'autonomia Pensionati 0,3%. Partito Comunista dei Lavoratori 0,2%. Forza Nuova 0,2% e Liberale Democratici 0,1%. Sopra la media provinciale l'affluenza nel capoluogo con Bolzano che registra il 64,7% dei votanti ma anche un calo di quasi 7 punti rispetto al 2004. Tra i comuni principali quello dove si è votato meno è stato Brunico con il 53%. Quello dove si è votato di più è stato Laives con il 67,1%. L'affluenza massima si è registrata nel comune di Lavalle con il 76,2%. Quella minima a Tubre con il 48,8%. 50.154 alle urne nel capoluogo. A Bolzano vince il PDL con 14.767 preferenze pari al 30,6%. Al secondo posto il PD con 8.585 preferenze pari al 17,8%. Al terzo l'SVP con 7.156 voti pari al 14,8%. Di Pietro Italia dei Valori al quarto posto nel capoluogo con l'8,8% delle preferenze seguito da Sinistra Libertà con l'8,3%, Lega Nord con il 6,9%, Lista Pannella Bonino 4,3%, Udc 4%, Rifondazione 1,9%, Fiamma Tricolore 1,2%, La Destra Pensionati 0,5%, Forza Nuova e Partito Comunista dei Lavoratori 0,4%, Chiude Liberale Democratici con lo 0,1%. Forza Nuova e Partito Comunista dei Valori